Risponda alla mia domanda. Sì, produce una reazione fisiologica che equivale a quella prodotta dalle droghe. La nicotina che viene trattata con ammoniaca dà maggiore assofazione. Ha un effetto farmacologico che attraversa la barriera ematoencefalica interamente. Grazie dottore. Grazie. Jack, ascoltami. La loro strategia. E screditare questo signore, rovinargli la reputazione con un articolo, così nessuno ascolterà quello che ha da dire sul tabacco. Che ha come unico scopo il business, che è legato unicamente allo spaccio della nicotina. C'è una pratica nota come processo ammoniacale e fa in modo che la nicotina venga assorbita più rapidamente dai polmoni, danneggiando cervello e sistema nervoso centrale. E le sigarette servono a questo? Servono a spacciare nicotina. Un mezzo per spacciare la nicotina. La metti in bocca, poi la accendi e prendi la tua dose? Prendi la tua dose, sì. E la mia lingua scopo il Michele. Il figlio è un